in marco 4 abbiamo la prima parola abbiamo detto che se noi capiamo questa parola abbiamo la capacità di capire le altre parole questa parola si chiama la parola del seminatore ma chi è il seminatore e cosa semina il seminatore è una persona che predica condivide parla la parola di dio cioè il seme quindi ogni tanto che voi ascoltate la parola gesù ci dice perché questo è un mistero nel reino di dio ci dice ci sono quattro cose che accadono più o meno la prima cosa è che c'è un ladro che si chiama satana gesù mai ha dubitato l'esistenza di diavolo la il dubbio e la fede di satana vi ricordate l'istoria non è vero che se tu fai questo non è vero ha detto satana alla donna all'uomo se lo mangiate diventerai come dio quindi attenzione satana è il nostro primo nemico il secondo nemico è a causa della parola quando noi ascoltiamo la parola arriveranno tribolazione persecuzione se io ti se vi potreste raccontare quello che ho vissuto io ce l'ho 63 anni ma sono diventato cristiano quando aveva 21 anni ma vi posso dire che quel 21 anni l'ho vissuto cattivamente ma dopo quindi ascoltiamo la parola arriveranno tribolazione e persecuzione e persecuzione e la terza cosa gesù utilizza tre frasi per dire così avidità scusate delle altre cose inganno della ricchezza e tutti questi impegni mondiani mondani questi impegni l'inganno della ricchezza avidità delle altre cose portano fuori la parola che seminata è noi quindi questi tre nemici noi dobbiamo essere sicuri di avere attenzione perché tutto il mondo ascolta ascolterà la parola che seminata quindi sono quattro terreni il quarto terreno Gesù ci dice che lì questo terreno da frutto al 30 60 al 100 ora lì anche ci dice come io posso dare frutto e vi farò un piccolo video come questo di tre minuti solo per dire quale sono queste cose che noi abbiamo bisogno ora vi racconto che la casa di marco è stato bellissimo con valentina livia onorata e marco è onorata sempre gentilissima ci fa un dolce quello del mercato venerdì come le altre buonissimi anche era la sogna il cane e dopo è arrivato silvano comunque leggete marco 4 fino alla parola parola del seminatore ricordate satana è un ladro ruba ammazza distrugge dopo abbiamo che perché noi diventiamo persone che ascoltiamo la parola di dio arriverà qualche problemino ma se dio è con noi chi contra di noi e dopo abbiamo queste tre cose la avidità del desiderio di soddisfare le cose della vita questi impegni mondani l'inganno della ricchezza quelle tre cose non permettono a nostra vita dare frutto vi bacio vi auguro bene e dopo vi faccio l'altro video così se capisce ora questi ostacoli ora io vi offresco le cose che ci aiutano per offrire al cento per cento ciao condividete questi video con vostri amici alla prossima